Mi sono chiesto, ma voi sapete che cosa significa vita da freelance? Un freelance deve avere di sicuro un gatto, è una cosa fondamentale, io ho un gatto Il freelance è un artista e l'artista ha i gatti, è vero Yuki? È vero, lui conferma Quindi mi sono chiesto, se voi sapete esattamente che cosa significa fare il freelance Ecco, questa è una delle cose che significa fare il freelance Il telefono che squilla in continuazione E voglio spiegarlo a tutti coloro che vogliono fare questo mestiere Fare il freelance significa anche non avere mai tempo Ed è forse la cosa che più manca ad ognuno di noi, il tempo Perché è così importante avere tempo? Beh, la nostra vita si basa totalmente sul tempo E quando questo viene a mancare, beh, vengono a mancare tanti valori e tante cose che noi abbiamo nella nostra vita Tengo a fare questa precisazione perché ci sono tanti di voi che mi seguono perché io faccio un determinato mestiere Perché vedono in me quello che vorrebbero essere loro Ma voglio fare una premessa e ci tengo tantissimo Ed è anche la strada che voglio fare intraprendere a questo canale Questo canale è il canale di Luca Dove voglio raccontarvi quello che più mi fa divertire, quello che più mi piace Perché durante la giornata, durante la mia vita, non ho una vita eccentrica Non ho una vita divertente, ma ho una vita fatta di stress, di ansia e di lavoro Una vita che però a me piace Non riesco a vivere senza stress, senza ansia e senza quello che faccio Questo ad esempio è un tempo che io voglio dedicare alla mia vita Questo è il mio momento di antistress Voglio far capire a tutti coloro che vogliono intraprendere questa vita Ho anche il cane, non ho soltanto il gatto Il mio cane è un cane che rantola e anzi, ma in continuazione Quindi se sentite il rantoli è il mio cane Vorrei che tutte le persone che vogliono intraprendere questa vita La vita del freelance in qualsiasi ambito esso sia Infatti da oggi in poi vi chiamerò freelance Siete ben consci di quello a cui andate incontro Ci sono dei problemi, ci sono degli step da superare Uno di questi problemi è il non avere mai tempo Il tempo da dedicare alle proprie passioni Il tempo da dedicare ai propri familiari Il tempo da dedicare al vostro partner Il tempo da dedicare ai vostri figli Per chi di voi è più grandicello Essere freelance significa dover badare a voi stessi In qualsiasi circostanza E senza che nessuno vi possa fare da spalla Non è detto che non possiate contare su nessuno Ma di sicuro non avrete lo stipendio a fine mese Di sicuro il pane che voi mangerete Lo avrete guadagnato con le vostre mani E soltanto con la vostra forza Essere freelance significa non avere orari E quindi ecco dove vuole arrivare il mio discorso Su non avere tempo Ecco il problema Il non avere mai tempo significa questo Essere costantemente al telefono Risolvere costantemente problemi Mantenere costantemente relazioni E non si può dire di no Perché fa parte del nostro mestiere Fa parte dell'essere freelance Dell'essere noi tutto Essere commercialisti Essere venditori Essere lavoratori Essere quelli che vanno a riscuotere il danaro Il danaro purtroppo Quindi voglio Vorrei riuscire a trasmettervi questi messaggi Vorrei riuscire a trasmettervi Questa che è la vita che io ho scelto di intraprendere E lo voglio Voglio farlo Per permettere a chiunque di voi Di poter scegliere Se questa è la vita corretta Oppure no Quindi voglio Chiudere questo primo video Con una piccola lezione Per essere freelance Bisogna avere Le idee ben chiare Bisogna credere in quello che si vuole fare E bisogna farlo Con tutto voi stessi Questa è la regola fondamentale Special modo Non demordere mai Perché le delusioni Sono sempre di trov'angolo Ci sono sempre più delusioni Di quanto noi ne possiamo immaginare Ma queste non ci devono fermare Anzi Devono essere Il motore Del nostro volere essere Freelancer Il nostro volere essere Indipendenti Perché Per tutti gli elementi negativi Che vi ho raccontato Ce ne sono Altrettanti E forse di più positivi Il fatto di essere Ecco Indipendenti Possiamo lavorare Quando vogliamo Come vogliamo E possiamo Essere molto Molto più creativi Rispetto a lavorare Presso un'azienda Rispetto ad essere Un dipendente Di qualcun altro Noi come freelance Siamo sempre Dipendenti di qualcun altro Attenzione Siamo sempre dipendenti Del nostro cliente Ma Con delle eccezioni Siamo Comunque Chiamati A rispondere Di noi stessi E Special modo Con la nostra Creatività Insomma Voglio cominciare questo 2020 Con questo percorso E vorrei che E vorrei che Tutte le persone Che sono interessate Mi seguano Perché Voglio raccontarvi Che cosa significa Che cosa significa Vivere del proprio mestiere Una cosa che Oggi Special modo Special modo Nel mondo del lavoro È poco considerata Anche dai più giovani Il fatto che purtroppo Non è più Il nostro mondo La nostra Nostro stato La nostra nazione Il modo di lavorare Non è più uguale Ai tempi Dei nostri genitori Almeno Di miei genitori Dove Si facevano I concorsi pubblici Per entrare In Ad avere Un posto Il famoso Posto fisso Di zalone Non funziona così Oggi purtroppo Bisogna Sapersi inventare Bisogna diventare Imprenditori Di noi stessi Ed essere freelance È una di queste cose Quindi Se questo video Vi è piaciuto Mi raccomando Iscrivetevi Al canale Così posso Raccontarvi Sempre di più Su questo Bellissimo Mondo Dell'essere freelance Un posto Grazie a tutti.